Ritorno! Ritorno! Bene, marca un punto di lancio per il che... Someone will get it! Il gas si sta avvicinando! Meglio se iniziate a correre! Soprattivete per far rischierare i caduchi e accumulate butti perché tornino più in fredda! La priorità è uccidere tutti i nemici! All'attacco! UAP nemico attiva! Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! Bombardamento di precisione alleato! Attenzione! Take this ambush! Someone will get them! Toi, lad.. stenzione! Ua fine mi coattivo! Ua fine mi coattivo! 18 minuto! UAP nemico attivo Nemico in arrivo nell'area Devi resistere fino al rientro dei tuoi compagni Membro della squadra in rientro Gas in movimento C'è poco tempo, andate alla meta Tracking enemy Taking shots Time's wasted Get back to it UAP nemico attivo Nemico in arrivo nell'area Un team nemico ti dà la caccia Sopravvivi Take his shot Sei tra gli ultimi venticinque, avanti così Ritorni in campo Forza Vai Ritorni in campo Forza Faccio di espacimento per voi UAP nemico attivo Arriba il gas Marco la nuova zona sicura Got a submachine gun here UAP nemico attivo Contratto scaduto Completate in fronte Take your sample I raconte 될à I raconis Perdona Preccio di equipaggiamento alleato. Puoi respirare. Ho inseminato il piacciatore. Tracking enemies. C'è movimento. Good, we're all in the safe zone Shit, enemy got here first Arriva il gas, marco la nuova zona sicura Sardi, pressi delle stazioni di acquisto ritoccati UAV nemico attivo UAV nemico attivo UAV nemico tenetene conto Occhi aperti, finestra di ritorno sta per chiudersi Sardi terminati, pressi tornati alla normalità Casino riddle Come on, everybody get in the safe zone Come on, everybody get in the safe zone Niente più ritorno, niente seconde occasioni Arriva il gas, marco la nuova zona sicura Tracking enemy Tracking enemy Tracking enemy Tracking enemy Frag out Carasen movimento Tracking shots Bersaglio identificato Buon divertimento Bersaglio identificato Sistemato Splendido Bersaglio 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 ULCHIMI 5 Frag out Sistemato Sistemato ULCHIMI 5 Safi Sistemato Sì! Arriba il gas, Marco la nuova zona sicura. Gas in movimento. We gotta get to the safe zone. Ce la sono geniata. Coditi questa vittoria. Coditi. Coditi.